www.sportantino.it 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 per 3 a 0 sabato scorso fra le mura amiche del Marie Curie Delta che avrà in ogni caso comunque vado a finire questa partita la possibilità in caso di sconfitto della terza partita tra le mura amiche sabato prossimo una eventualità che però Fondres vuole assolutamente evitare 10 a 18 grazie all'East della centrale rovretana e eccoci in campo terminato il tema autoscrizionale chiesto dalla panchina torinese 10 a 18 dopo l'East avete potuto vedere il suo assegno da Silvia Fondres, centrale rovretana che come dicevamo pochi istanti fa vuole assolutamente evitare insieme a tutte le compagnie da Pintuale gara 3 di spareggio fra 7 giorni alla Marie Curie di Pergine se si inizia stasera con qualunque punteggio sarà Serie 2 la terza volta per quanto riguarda la pallavolo di Casanostra dopo quella del Torre Franca di 30 anni fa e quella della stessa Trentino Rosa invece ma sotto le effigie, sotto lo stemma, sotto la dirigenza di Trentino Voli di tre stagioni orsono 11.18 arrivato il cambio palla ha messo a segno dalla formazione piemontese che ora può mandare a servizio la sua centrale a Crari la recezione di Pirva e Michele spalla in testa a palla per Martini che si invecchia però il muro di millesimo attacco scontato da posto 4 ha cercato il diagonale stretto Martini ha messo bene le mani però la centrale piemontese rosicchia così una punticina break da parte della formazione di casa che si porta a meno 6 18-12 con ancora la centrale a Crari che può andare a servizio soprattutto la recezione si è in ciaspica dopo la di loro Pirva e Polato e a Crari realizza il suo secondo punto personale quello del 13-18 e ancora la centrale che andrà a servizio ma dopo il time out è chiesto però da Orlando Coia 13 per chi è a servizio 18 per chi è in ricezione primo set gara 2 gara di ritorno dello spareggio per la promozione diretta in Serie 2 fra le due squadre vincitrici dei gironi A e girone B Rossa Lilliput Torino Delta Informatica Trentino Rosa a Crari a servizio l'eccezione stavolta di Martini che era coperta ma riceve comunque questa palla il pallonetto di Sognacandi che però non cade può giocare allora con questa piazzata in modo estremamente intelligente proprio a Crari da 14-18 punto che non è stato per niente preso bene questo dalla formazione della panchina della squadra torrentina fatto sta che rischia un altro punticino al sestetto di casa 14-18 4 ora sono i punti fra i due sestetti a eccezione ancora di Martini De Michelis che chiama in casa la stessa schiacciatrice sul pallonetto viene però difesa abbastanza facilmente dalla Lilliput di Torino che poi attacca e trova i 15-18 grazie al punto di Bruno schiacciatrice Mancina subentrata pochi scambi or sono si avvicina pericolosamente la squadra ospite all'orgo di casa perdone all'orgo della delta chiamano un altro temato parziale di 5-0 a favore della squadra di casa da 18-10 a 18-15 grazie al turno al servizio di Acrari ancora al servizio all'eccezione di Polato che sbaglia completamente Martini e il suo bagger d'appoggio per Marcheron che non può far altro che appoggiarla a lunga faccia di difesa della Lilliput che contattacca la nostra palla da posto 4 fallout respira e sospira la delta informatica che vede interrompere la striscia positiva della Lilliput di Torino 15-19 il punteggio fatto questo benedetto cambio palla e ora palla in mano alla palleggiatrice Ilaria De Michelis che potrà andare a servizio oltre la linea dei 9 metri flotta piedi a terra per la palleggiatrice ricezione buona da parte della squadra piemontese si affida ancora Bruno e Candy ci mette le manone arriva il muro del 15 a 20 grazie a Sonia Candy che stampa così il suo primo blocco di questa partita terzo punto complessivo dopo due attacchi messi a segno all'inizio di questo 7-15-20 5 punti all'immagine di nuovo per l'assistento di Orlando Toia palla corta da parte di Michele smolto intelligente Candy è più alta e risolve questa situazione è importantissimo 1-2 messo a segno da Sonia Candy che realizza i due punti che permettono alla Delta di andare a più 6-15-21 torna a macinare i punti la squadra di Orlando Toia ancora a servizio con De Michele scolto via terra per lei ricezione buona ancora da parte di Leliput di Torino paletto di Bruno e ancora Sonia Candy in questo frangente del match la centrale romagnola ci mette le manone realizza i tre punti consecutivi del 15-22 nel momento più difficile spunta fuori dal cilindro Sonia Candy che piazza 1-2-3 che riporta 7 le lunghezze di distanza fra i due sastetti ancora De Michele che può prendere palla in mano e andare a servizio flotto piedi a terra palla velenosa riceve abbastanza bene ancora la Leliput di Torino palla in posto 4 attacco splendida difesa di Polato palla che verrà di là in qualche modo dopo il tocco di Candida fast e riesce a mettere palla a terra Giacomelle che sta attacco da posto 6 16-22 interrotto la striscia positiva da parte della squadra Trentina grazie al punto messo segno da Giacomelle con questa fast che si va a insaccare tra Rete e Manile la casca palla del postino praticamente la ricezione ora di Martini palla in per testa di Michelis che palla che legge in posto 4 per Macheron la sua difesa lunga da parte da Lilliput di Torino e poi a mettersi le manone è ancora il muro proposto da Scandi e Martini 16-23 Delta che nel momento più complicato ritrova il proprio muro e nel momento in cui serve lo sprint per andare a chiudere questo primo set schiera in campo Giorgio Tulesco affidandole la palla e andandola direttamente oltre la linea dei 9 metri l'ex centrale dei solti di Gianflot per lei palla velenosa proprio sulla filo della linea palla in posto 4 a zacco scontato difende proprio la sesta tedesca di Piazzata di Michele Issa Sodia Candy su attacco difeso in qualche modo da Torino che rimane di qua free ball per la Delta Informatica palla dietro per Marcherone su attacco difeso ancora dalla squadra di casa che può poter attaccare in questa piazzata sbagliata completamente 16-24 prima palla 7 per la Delta Informatica dopo l'errore in attacco abbastanza grottesco da parte di Miola e allora Todesco palla set per lei Gianflot palla che sfiora il nastro molto velenosa da ricevere ci riesce la Lili Putitorino ma poi ancora l'errore in attacco questa volta da parte di Biganzioli vale il 16 a 25 1-0 Delta secondo set 1-0 per la Delta quindi come avete potuto vedere nell'immagine della nostra video sintesi il secondo parziale che si apre con il stampone con il muro di Silvio Fondri è il secondo consecutivo perché il primo muro l'aveva portato alla Giussestetti al 13 centri al secondo time out tecnico di questo secondo set e il muro a un muro da parte della centrale aerovretana porta le trentine avanti 13 a 17 in questo secondo parziale break importante per quanto riguarda la formazione trentina che aveva la titta sotto in questo primo set sotto di 4 o 5 lunghezze ma poi è riuscita pian piano a recuperare fino ad impattare sul 10 a 10 ed ora è riuscita a mettere la freccia su questo secondo time out tecnico prima di beccare ora il muro d'attacco da parte di Giacomella che interrompe la bella striscia positiva di battute firmate Aurora Bonafini e proprio l'ex palleggiatrice dell'Argentario ora esce per far di nuovo posto in campo a Sonia Candy centrale romagnola che era uscita proprio per permettere all'ingresso della seconda palleggiatrice della delta informatica torna in campo intanto con il numero 5 Botta al posto di Bruno schiarata schiacciatrice titolare dopo che la vita in panchina in questo secondo set torna in campo anche Miola nel ruolo di opposto due cambi quindi chiesti dalla panchina pimentese per cercare di recuperare questa distanza di tre lunghezze 14 a 17 così come torna in campo anche Sonia Candia al posto di Aurora Bonafini dopo questa girandola di sostituzioni si può quindi ricominciare a giocare con il servizio della neo entrata Botta soprattutto a Gianflot ricezione di Martini di paleggiare in bagger polato per Pirva tenuta a muro ma può ricostruire ancora la formazione trentina ma arriva un fallo di doppia chiamato ancora il terzo di questa partita chiamato a De Michelis che era una palla oggettivamente questa alquanto complicata da palleggiare 15 a 17 il punteggio Resicchia quindi un altro punticino la squadra piemontese si riporta a meno 2 Botta ancora soprattutto a Gianflot ancora cercando e trovando Martini che risponde molto bene poi il primo tempo di Vanles che non chiude per giocare allora la squadra piemontese ma non passa l'attacco di Miola che va a stamparsi direttamente sulla retta sul nastro allora 15 a 18 in questo secondo sette torna a 2-3 la formazione di Orlando Gioia che manda a servizio la propria capitana alla propria posta il proprio braccio pesante ovvero sia Giada Marcheron Gianflot Palla molto profonda riesce a ricevere il libero in qualche modo palla dietro cercando l'attacco da parte della scettrice Giacomelli che mette questo segno il suo settimo punto personale quello che le vale il palmo finora di migliore direttatrice della propria squadra ovviamente se il mio Tabellino non mi inganna è soprattutto quello che riporta a meno 2 al sestetto di casa 16 a 18 la stessa Giacomelli ora che prende palla in mano e va al servizio con una Gianflot cercando sempre Martini che risponde molto bene poi la splendida pipe attaccata da Giada Marcheron 16 a 19 grazie allo ottima pipe firmata a Marcheron che appena il suo quarto punto personale un solo punto per il primo set 3 in questo secondo parziale tutti quanti in attacco Piervo che prende palla che prende palla in mano e va al servizio Gianflot terrenosissima cercando biganzioli che risponde abbastanza bene la stessa biganzioli in attacco trova una gran bella diagonale la schiacciatrice della formazione di casa settimo punto personale anche per lei 17 a 19 e ora tocca a millesimo prendere palla in mano ed andare al servizio meno 2 per la squadra di casa al servizio con la propria centrale millesimo più 2 per la data informatica in ricezione sullo sfondo dello schermo del vostro PC in sezione su questa velenosa jumpflot cercata e trovata Arianna Pirva il bagger da parte di De Michele spiazza Martini dal posto 4 riesce a difendere molto bene però la squadra turinese palla che gira non poco dopo questo palleggio ma viene considerata regolare dai due arbitri allora si continua a giocare questa piazzata di Martini spesa dalla Lilliput che controattacca ancora da posto 4 la sassata ancora di Biganzioli meno 1 18 a 19 un solo punticino ora separa i due sestetti Torino c'è Torino non ci pensare neanche a considerare chiuso né il discorso vittorio di questa partita né il discorso qualificazione e allora poi la chiama direttamente time out terminato il canotto è chiesto dalla panchina trentina 18 perché al servizio ovvero sia la Lilliput di Torino con la propria centrale millesimo 19 perché in riflessione ovvero sia la delta in affermata Gianflotta ancora per millesimo cercando trovando polato la palla che torna nella metà campo della Lilliput che pasticcia un po' in fase di primo tocco ma riesce poi Biganzoli ad appoggiarla di là può giocare la delta con l'attacco di un pallonetto da parte di Marcheron tienegli la palla in qualche modo almeno in un primo momento la Lilliput di Torino Marcheron che mette a segno questo preziosissimo pallonetto che permette alle trentine di tornare 18 a 20 grazie al pallonetto di Giada Marcheron che manda ora a servizio Silvia Fondrest Gianflotta per la centrale Rovaletana palla che però non passa per ora in battuta numero 4 di questa partita per la delta sono 6 invece gli sbagli dai 9 metri per quanto riguarda il sestetto piemontese che si avvicina di nuovo così a meno 1 19 a 20 in battuta con Miola il proprio opposto Gianflotta di attenzione di Polato De Michelis che chiama ancora in casa Marcheron che tira ma stassata dalla seconda linea arriva il sesto punto personale quello del 19 a 21 situazione di punteggio molto tirata molto combattuta e allora De Michelis palla in banca affidandola al proprio opposto Vicentino De Michelis proprio lei alla palleggia la buona recezione dalla battuta perdona la recezione è ora da parte della formazione piemontese che controattacca con questa fast di Acrari che però termina direttamente out 19 19 a 22 sospirone di sollievo da parte della squadra trentina e doppio cambio immediato chiesto dalla formazione piemontese che reinserisce Bruno e con il numero 17 Barazzone in cabina di regia De Michelis ancora al servizio palla profonda riceve Viganzioli la nuova entrata che palleggia proprio per l'autrice della battuta e arriva anche il punto in pallonetto della stessa Viganzioli nono punto personale la schiacciatrice capitano della formazione piemontese che ora può prendere palla in mano andare al servizio di 20 a 22 2-2 per la Delta Informatica ora impegnata in ricezione con Rialapier che la lascia andare palla che termina out settimo errore e allora siamo a 20 a 23 altro diotto occasione per la Delta che non deve lasciarsi scappare questa occasione e allora dentro Giorgia Todesco dotata di una cianflotta alquanto velenosa al posto di Alice Martini tocca all'ex centrale dei solteri cercare di il colpo di reni finale per protester a casa questo secondo parziale buona la sopra tutta ricezione però altrettanto positiva da parte della formazione di casa poi Bruno che la appoggia lunga ma la appoggia malissimo perché spalla va oltre la linea dei 9 metri 20 a 24 e sul 19 a 21 sono arrivati 3 errori consecutivi da parte della formazione piemontese che hanno regalato ora la palla set a Giorgia Todesco Gianflot per lei palla profondissima Giacomè riceve sui 3 metri il palleggio per l'attacco di Biganzioli palla dentro bellissima questo attacco in pipe da parte di Biganzioli mette a segno la palla del 21 a 24 annulata quindi il primo palla set per quanto riguarda la formazione di casa la formazione della Trentina e ora tocca la centrale a Crari prendere palla in mano andare oltre la linea dei 9 metri servire quella che è la seconda palla set per quanto riguarda la delta informatica in questo secondo parziale Flotta pediatra per la centrale della Lilliput di Torino Polato riceve molto bene va per via centrale con Stogna cambini la delta informatica e siamo del 1 a 25 grazie al punto della città di Romagnola ed ora la 2 è distante in solo 7 sembrerà sembrerà giusto questo inizio di terzo parziale regalarvi una carrellata del pubblico presente nella palestra di Settivo Torinese anche perché in campo questa volta l'ecopione è cambiato nonostante il punto che si è appena visto di Firve in attacco in avanti c'è la formazione più punteggio 18 a 14 il punteggio più 4 per la Lilliput di Torino che è partita molto bene in questo seguito parziale riuscita poi a tenere il ritorno della delta informatica che ha impattato i giochi ma riuscita al secondo tema tecnico a prendere un nuovo vantaggio e ora arriva l'Aims di Ariano Firve che permette alla delta di rosicchiare un altro puntissimo meno 3 non è affatto finito questo terzo parziale non è finita la partita non è finito il discorso qualificazione tutto ancora da giocare 18 a 15 il punteggio Pirva al servizio Gianflot per l'aereo errore numero 6 la linea dei 9 metri per la delta informatica 19 a 15 il punteggio torna più 4 da Lilliput di Torino che ora può mandare al servizio la propria schiacciatrice Giacomella Gianflot per il posto 4 di casa di Giorgia Todesco per la centrale bellunese c'è una Gianflot palla che va a cadere in posto 6 il gestione perfetta da parte del libero piemontese ma poi l'errore in attacco netto da parte di Viganzioli che pacca sotto il nastro a modo limbo dopo aver attaccato palla 19 a 17 ancora Giorgia Todesco con la palla gialla e blu in mano andrà al servizio per cercare di portarsi di riportare il Trentino rosa la delta informatica in palità in questo terzo parziale palla in posto 4 tocca il muro della delta che andrà la palla in qualche modo ancora Paloni la rimanda di Einbagger la fribolla tra Lilliput di Torino che attacca con questa pipe un marcherone però c'è la palla che trova di là che Michele si mette le mani la palla che trova a metà a campo della delta quindi il suo bagger per Marchionone che non può dire altro che questo palleggio questo appoggio che permette alla Lilliput di ricostruire ma ricostruisce malissimo perché arriva l'errore ancora di Biganzioli da posto 4 pallosissima la squadra piemontese sono già 16 ore di gioco più 7 errori in battita 23 errori complessivi in 2,7 e mezzo per quanto riguarda la squadra piemontese vuol dire quasi un set regalato alla delta che era chiamata time out invece la squadra della Lilliput di no esalito il time out discrezionale si torna in campo sempre con la battuta di Giorgia Todesco tiene il muro della delta in questa circostanza su attacco da posto 4 da parte della formazione piemontese tocca per la seconda di Giorgia di Giorgia da parte delle piemontese contro i 6 della delta informatica che ora va in più uno perché in palleggio in battuta pardon c'è la propria palleggiatrice De Michelis il flotto più di a terra per lei palla corta riceve bene la formazione di casa che attacca con questa fasto che andrà al muro di Paoloni può rigiocare ancora la Lilliput di Torino palla scontata Pirva c'è il momento piazzato viene in difesa palla dietro per Marchiorone su attacco piazzato viene difeso ancora dalla Lilliput che contraattacca con attacco dalla seconda linea di Miola c'è il tocco al muro della delta informatica palla per la Lilliput 21 a 19 e allora tocca la palleggiatrice Barazzone prendere palla in mano andare in battuta sul 21 a 19 cercata e trovata la Pirva spogna abbastanza bene la privi centrali con i peli trovando un soccolattino che Candy trasforma nel punto del 21 a 20 si riporta a meno uno la squadra trentina al servizio con Teresa Paoloni la scacciatrice ex Argentario in campo ora per questa battuta importantissima sul 21 a 20 Gianflotte per lei palla profonda riceve prove nel libro di casa palla dietro secondo Biganzioli bellissima difesa distinta di Polato con la palla che passa in mezzo al muro e poi Marchionone tiene il muro ma difende ancora molto bene la squadra ospite Paolo di splendida in difesa il rv va a stamparsi contro il muro di Acrari il suo attacco ha cercato di chiudere la diagonale ma ha capito tutto Acrari che ha messo le manone quelle che vale il 22 a 20 2 a 0 il conto dei 7 ma 22 a 20 per Torino in questo terzo parziale il terzo di Polato di Michele bellissima baghera per pierda ancora il muro di Miola e di Acrari 23 a 20 e ora cambio torna Martini in campo al posto di Teresa Poloni un cambio per cercare soprattutto di cambiare un po' l'inerzia di questa di questo momento per quanto riguarda il sestetto Trentino sotto di tre lunghezze 23 a 20 in questo terzo set Polato a sua eccezione sbagliata Marchioronna l'attacco di Pirva che trova il contro alto delle mani del muro nonno punto personale per Arianna Pirva 23 a 21 e allora si chiude anche l'ultimo cambio a disposizione da parte di Orlando Toia con il ritorno in campo di Ponder sta al posto di Giorgia Todesco e sul 23 a 21 a servizio c'è Sonia Candy Toia che incita le sue dalla panchina cercando uno scatto di orgoglio in questa parte finale di terzo set la battuta a flott via terra di Candy buona eccezione da parte delle piemontesi e poi l'errore completo in attacco da parte di Miola che ha cercato una lunga linea improbabile palla contaminata abbondantemente out e allora 23 a 22 time out immediato Piazza da Torino 23 a 22 partita set qualificazione alla A2 ancora aperta Sonia cambia il servizio in questo terzo parziale fatto via terra ancora per lei recezione ancora positiva da parte della formazione piemontese salva in qualche modo Pirva con un colpo importante ma la palla che termina out di un non niente dopo l'attacco da posto 4 da parte di Giacomele e allora sono 24 ai punti da Lilliput di Torino 24 arriva la prima palla set che sarà nel mai della seconda palleggiatrice ossia botta 24 perché è imbattuta Lilliput di Torino per provare di aprire questa gara la 2 22 per la delta informatica sotto di due punti ma avanti di due set per provare a reagire a vincere qua questa partita questa qualificazione della 2 Marchioron non sbaglia fa la linea in posto 6 undicesimo punto personale 24 23 proprio Giada Marchioron che ora prende la palla in mano e va al servizio tra linea dei 9 metri seconda palla 7 per la Lilliput di Torino la prima sul servizio della delta Marchioron che non si arrisca una battuta a salto forte Gianflot per lei buona dal cuore la recezione della Lilliput con un attacco da posto 4 Polato c'è splendida difesa della delta tiene l'idea questa palla palla che torna in la free ball per la Lilliput di Torino tiene ancora il muro Martini c'è di Micheli spalla ovviamente per Marchioron in pipe difende la Lilliput la rimanda di qua Polato c'è di Micheli spalla in mano faster con Fondest copertura spalla di tir ma poi non si capiscono le trentine allora arriva il punto che chiude qua i giochi 25-43 in questo terzo set 2-1 quarto parziale fra delta informatica Lilliput di Torino e anche in questo set come nel precedente sono le piemontesi ad avere il naso ampiamente davanti 20-13 il punteggio a favore del sestetto di casa su una delta che ora molto più fallosa rispetto alla prima parte della partita Torino che invece sbaglia poco o nulla si è invertito praticamente l'inerzia della gara in questo quarto set anche se ora per Micheli si piazza il muro che resiste almeno un altro punticino alla formazione di casa 20-14 il punteggio più 6 per il sestetto piemontese delta che ha provato con un paio di cambi inserendo Bonafini in regia e pallone in posto 4 per Martini a riaprire quei giochi ma Torino ora sta giocando una grabba non solo difende moltissimo non solo copre molto bene non solo sta sbagliando poco ma riesce anche ad essere molto molto più fluida in attacco è stata di mettere palla a terra cerca di chiudere molto di più il gioco ora con la propria centrale la palliatrice di casa rispetto a quanto l'ha fatto nella prima parte di partita e allora la delta deve stringere i denti instabile Rosetti ha un altro punticino grazie a questo errore di attacco il slot a meno 5 a 20-15 si torna in campo il delta che incassa subito un punto a proprio favore quello del 20-16 grazie a un cartellino rosso dato alla panchina della squadra di casa la Lilliput di Torino non si è ben capito il perché per come probabilmente sarà volata qualche parola di troppo tanto fatto sta che punto per la delta a 20-16 meno 4 sentitamente la squadra trentina ringrazia con cassa subito il punto di Biganzioli da posto 4 dice peso un punto per lei allora sono 5 punti di margine della formazione piemontese 21-16 il punteggio e ora tocca la palliatrice di casa va ad azione a prendere palla in mano e andare a servizio l'eccezione di Pirva De Michelis in Bager deve andare per Martini su attacco termina direttamente auto e allora 22-16 partita che in questo momento sembra molto un conto alla rovescia verso il tie break l'inerzia si è rovesciata rispetto ai primi due parziali 22-16 il punteggio Barazzone ancora a servizio l'eccezione ancora di Pirva De Michelis si chiama in causa a Marchionne e arriva il punto numero 17 personale per Giada Marchionne e 17 anche di squadra per la delta informatica in questo quarto partiale sono come 25 i palloni che separano la truppa di Orlando Coia da quella della formazione piemontese allenato da coach Massimo Moglio 22-17 De Michelis al servizio buona ricezione parluoppo lunga ne approfitta Candy con lo smash del 12-100 punto personale 22-18 delta che trova con le unghie con i denti con la voglia con il carattere con il cuore con tutto quello che ha riaprire questo quarto set nel quale si è trovata sotto di tante 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 lunghezze 22-18 il punteggio ancora De Michelis cercando e trovando la buona ricezione da parte della squadra piemontese riesce a difende a tenere poi il muro della delta ripasticciano un po' rimandando di qua la palla Torino ma però è ancora free ball per la delta e allora 22-19 Giada Marcheron mette a terra il pallone importantissimo del 22-19 chiama immediatamente un time out il tecnico piemontese tre palloni erano molti di più fino a pochi scambi fa erano almeno il doppio ora siamo a meno tre 22-19 recezione buona da parte del libro di casa palla in posto a due per Biganzioli che trova l'ottima palla del 19esimo punto personale del 22esimo di squadra 23-19 per la Lilliput di Torino e proprio Biganzoli che ora può prendere palla in mano dal servizio il capitano della Lilliput di Torino che in questo quarto set è distante due punti dal tie-break e da rovesciare la frittata primo tempo con Sonia Candy che ha messo a terra il 14esimo punto personale il 20esimo di squadra 23-20 a favore della Lilliput di Torino e ora tocca ad Alice Martini prendere palla in mano da andare al servizio battuta flotta piede a terra per lei ricezione positiva da parte della formazione piemontese difende molto bene stessa Martini palla che viene tenuta viva Marchioran può solo appoggiarla di là è l'ora occasione per la Lilliput con l'attacco di Giacomel Polato in difesa sontuosa il bagger d'appoggio da parte di De Michelis per Pirve che non chiude ma c'è un'altra occasione ancora per la Delta va per via centrali la formazione di Coglia non chiude nemmeno cambia allora tocca a Giacomel attaccare la sua palla termina auto 23-21 ora sono solo due i punti che separano i due sospetti la Delta ci perde ancora la Delta ci trova ancora 23-21 dopo l'errore di Giacomel ancora Martini che può prendere palla in mano e andare in battuta meno due Flott Pigliaterra per lei ricezione buona ancora una volta la parte del libero di casa attacco cambia a giro la testa e non la chiude questa volta Giacomel mette a segno il 24esimo punto di squadra 24-21 a Crari si trova in mano la palla per spedire tutti al tie-break questa partita è la qualificazione la promozione in Serie A2 diretta della Delta Informatica Flott Pigliaterra per la centrale di casa l'eccezione di Martini De Michelis che chiama in causa per il soltacco per un altro 25-21 2-2 si va così al tie-break tutto in pochi punti tutto in pochi scambi la Delta Informatica Lilliput di Torino si gioca da una parte la promozione diretta in Serie A2 dall'altra parte la possibilità di volare a gara 3 il sabato prossimo a Pergine Vestuliana il Marie Curie 8-10 per la Delta Informatica al tie-break 9-10 ora grazie al punto di Mignola Mignola Acrari ora al servizio per quanto riguarda la formazione padrone di casa della Lilliput di Torino 9-10 il punteggio già un time out per parte è stato utilizzato se si gioca sul filo di Nerv sul filo di lana sul filo del rasoio l'errore ora di Acrari che sbaglia completamente non ho battuto sbagliato da parte della formazione padrone di casa 9-11 il punteggio a favore della Delta Informatica che ora manda in campo Giorgia Todesco al posto di Silvia Pondres per cercare di sfruttarne la velenosa Jump Flot 9 perché è ricezione la Lilliput di Torino maglia blu bordi bianchi 11 Delta Informatica maglia gialla bordi blu Giorgia Todesco centrale bellunese ex Solteri prende palla in mano e va al servizio oltre la linea dei 9 metri Gian Flot la palla che va a mordire in posto 6 buona la decezione da parte da Lilliput che attacca e trova il cambio palla Giacomel trova il suo ventesimo punto personale quello che vale il 10-11 meno 1 per quanto riguarda la Lilliput di Torino Delta avanti di una lunghezza in questo attiratissimo combattuto ed equilibrato Tai Brecca 10-11 Torino ancora al servizio Viola la sua battuta ricezione di Pirv per la testa di Michele Scandi Scandi una gran bella pass e Sonia Cagni tocca quota 16 punti personali 10-12 il punteggio torna più dura Delta 10-13 grazie al primo tempo di Sonia Candi e ora più uno per la Delta Informatica che a servizio manda la propria palleggiatrice Ilaria Demichelis plot piedi a terra per lei la battuta della palleggiatrice è buona ricezione da parte della formazione di Cana e arriva il muro Tijada Martioron 10-13 10-13 10-13 immediato il time out di Torino meno 2 Delta più 3 su Torino 10 per la Lilliput Torino 13 per la Delta Informatica a servizio ancora con Demichelis plot via terra ricezione positiva sempre del libero della formazione di casa e poi la palla lunga da parte di Giacomell non ci sarebbe mai potuto arrivare su questa sfera nemmeno con un razzo missile con i circuiti di mille valvole Giacomell trova il meno 2 11-13 Delta avanti ancora di un break della stessa schiacciatrice della Lilliput di Torino prendere palla in mano e andare a servizio oltre la linea dei 9 metri Gianflot per lei cercando Pirv che risponde malissimo in ricezione poi colato il suo bagger d'appoggio per Marchionna che l'appoggia lunga e viene predifeso dalla Lilliput di Torino attacco spline la difesa di Pirv De Michelis in bagger per Marchionna 14-11 già da Marchionna palla a match palla a 2 palla a promozione chiamatela come volete fatto sta che c'è la prima occasione per quanto riguarda la formazione frentina di chiudere qui i giochi e di andare in a 2 14-11 dentro Bonafini in battuta per cercare di sfruttare questa prima palla per il chiudere qua il match Bonafini l'ex palliatrice dell'argentario Gianflat per lei palla profonda riceve in qualche modo Torino palla in posto 4 attacco a picco braccio palla buona palla buona da parte di Biganzoli 14-12 il punteggio la seconda palla match per quanto riguarda la delta informatica arriverà sul servizio di millesimo 12-14 millesimo al servizio Gianflat per lei la ricezione di Polato di Michalis deve correre in baghe a tenere alta questa palla per Pirvo che tira tutto braccio palla alto 13-14 errore di Pirvo immediato alla richiesta di un time out da parte di Coia millesimo che può andare a servizio la centrale della formazione piemontese Gianflat per lei la ricezione da parte di Martini bagher di De Michalis per Marchioronna che chiude i giocchi in a 2 è promozione arriva la promozione in a 2 grazie al punto di Giada Marchioronna che chiude 15-13 al play break la delta vola in a 2 e può partire davvero la grande grandissima giustissima festa da parte della squadra trentina che c'entra la terza storica promozione in serie a 2 del volley trentino al femminile 13-15 al tie break una partita cardiopalma giustissima la festa della delta informatica e noi ci buttiamo in mezzo a questa festa a questa